Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Gameplay Gita, oggi siamo su Return from Core, un survival con visuale diciamo dall'alto, un survival minerario dove noi ci ritroviamo tipo al centro della terra e dobbiamo pian piano risalire, è sviluppato da questi signori qui che non riesco a capire come si chiama, penso sia cinese il gruppo, hanno un update plan quindi dei diversi cinesi perché qua parla di cinese, tutte le evoluzioni diciamo Risterine e Reaccess parlano di almeno sei mesi quindi metà 2024 con la 1.0, è uno stile grafico soprattutto nelle animazioni anche nei trailer che ricorda anche un anime potrebbe essere, insomma ma iniziamo dall'inizio perché cancelliamo la partita e iniziamo, qua vedete l'altezza a cui ci troviamo perché partiamo dal centro della terra, possiamo andare a creare il nostro personaggio cambiandoli i vari vestiti, insomma io mi accontento così, cominciamo, possiamo scegliere il seed del mondo, il spawn di risorse, mostri, la fame, lo chiamiamo Indie e cominciamo. abbiamo due modalità, una con un tutorial, una senza, iniziamo col tutorial, i titoli, cioè il momento è in inglese e i sottotitoli sono anche piuttosto veloci, troppo veloci, l'era sottoterra hanno 215 quindi deve essere successo qualcosa nel mondo, tre anni fa il tuo fratello ha lasciato il campo e è andato via, hai deciso di partire col tuo viaggio per fare, e vedete non riesco a leggere, ma è già la seconda volta che lo gioco ma non riesco a leggere, sei stato mandato nelle profondità quando hai scoperto un nuovo companion che è questa sorta di, chiamiamola succube, una ragazza misteriosa nel nome di Lilith, insomma, Diablo 4, mi insegna. Ok, non è facile il viaggio di ritorno e si comincia, insomma, e lei è qua, vedete che lo stile è il classico, insomma, siamo a 20.020 leghe sotto il centro della terra, insomma, e qui abbiamo la possibilità di parlargli, gli dice dove sono, siamo al core level, perché ritorna fra un core, quindi si torna dal core della terra, insomma, ci siamo piastati nella caverna quando il Bigfella è arrivato, Bigfella vedremo dopo chi è, insomma, è un grosso individuo, insomma. Siamo stati sfortunatamente colpiti dalle rocce, perché non riesco a ricordarmi niente, forse la memoria è usata dal danno cerebrale, questi sintomi dovrebbero essere temporanei, la tua memoria dovrebbe tornare in qualche giorno, durante questo periodo ti farò da guida, insomma, capito, cominciamo a muovere. Ho anche recuperato il tuo piccone, l'ho recuperato per te, insomma, e abbiamo il piccone. Quindi vedete che le fasi di gioco sono, appunto, queste qui, dove noi scaviamo. Molto carino perché poi andremo anche ad alimentare e creare le nostre catene di produzione, quindi vi chiedo, rimanete nel video perché ne vedremo delle belle. Insomma, non lo approfondiremo a livelli estremi perché voglio creare, appunto, in voi la curiosità riguardo questo titolo, di cui non so ancora dirvi il prezzo, perché lo sto giocando un paio di giorni prima il rilascio, l'ho scoperto questa mattina, poi lo sviluppatore è stato gentile, me l'ha mandato subito, possiamo saltare tenendo premuto, se qualora noi premessimo meno, insomma, non guardiamo magari nella direzione giusta, non riusciamo a saltare o saltiamo nel vuoto, ritorniamo perdendo 10 di vita, ne abbiamo 250 in totale. Qua possiamo andare a recuperare varie cose e qua recuperiamo anche questo, che è le fiale di cura. Qua abbiamo qualcosa, che non so cosa sia, e procediamo avanti e il gioco ci insegna subito che di fronte a noi abbiamo un ponte, abbiamo distrutto, abbiamo la necessità di costruirlo, quindi noi possiamo andare col tasto tab ad aprire il nostro menu inventario, vedere i parametri, le armature che abbiamo, le varie cose qua a sinistra che poi andremo a vedere, però intanto possiamo craftare, vedete, il fuoco, la torcia, un piccone, delle bombe, e nel questo caso piazziamo e costruiamo per 10 questi oggetti qui. Risselezioniamo con la rotella del mouse e piazziamo il ponte e quindi andiamo di là, possiamo farlo anche qua, no perché c'è già il terreno, insomma, oh, devo picchiare questo vermone, e vedete, vabbè, non mi piace, posso allargare comunque tutto, e tiro la leva, la leva accende la luce e ci manda avanti, insomma, ci fanno interagire con l'ambiente circostante. Intanto io prendo tutto, c'è anche un corpo qua, con cui possiamo recuperare delle monete, dei funghi, e proseguiamo seguendo questi binari. Adesso la cosa si fa molto interessante, perché? Perché, adesso intanto, mi ha buttato giù quel tizio lì, quindi molto male, e tirando la leva, vedete che noi accendiamo e qua scopriamo che è chiuso, e non possiamo abbatterlo, perché il danno che gli facciamo col piccone è 0, quindi il gioco ci avvicina alle prime meccaniche di produzione, perché c'è una leva, poi, vabbè, in sintesi, dobbiamo andare qui dentro, attivare questo treno, e per far partire il treno abbiamo bisogno di copper, di rame, vedete che io, se attivo la leva, mi dice, è impossibile, devi riempire la locomotiva. Quindi qua vicino possiamo andare a piazzarci degli oggetti, e quindi possiamo andare a produrre del copper. Quindi qua sotto, casca a fagiolo, miniamo il copper che ci serve. Altra cosa molto importante, questi tronchi, che non hanno ragione di esistere a questa profondità, sono molto utili perché ci daranno accesso alla legna, e la legna è il combustibile. Quindi vedete, adesso io scavo anche questo, recupero anche qui, e vado qui. Qui posso andare a piazzare, a scegliere cosa produrre, produciamo barre, con il copper, e usando la legna come combustibile. Vedete che lui è attivo e inizia a produrre. Quando produce, vedete qua dove ho il mouse, lui produce, e una volta che ha prodotto, vedete che lo manda direttamente al... con la catena di produzione, lo manda al vagone. Quando il vagone ne ha 5, lo potremmo lanciare. Infatti adesso vedete che sta continuando la produzione, siamo a 3, a breve arriviamo a 4. Intanto io mi porto un po' avanti, mi scavo altre cose. Siamo a 4, appena arriverà a 5, partirà, e non so se mi otterrà, ma... Comunque, vedete che va avanti questo taglino qui, e butterà giù il muro. Quindi in questo caso, adesso ne possiamo andare qui e recuperiamo le cose. Adesso io stoppo subito la catena di produzione, la stoppo, mi riprendo tutto il materiale, perché magari potrebbe servirmi, e mi recupero anche questo sulla catena di produzione. Qua è tutto finito, abbiamo scaricchiato abbastanza, possiamo andare oltre, e abbiamo visto le meccaniche di produzione. Poi, ovviamente, lo scopo sarà quello di andare sempre più in alto, saranno tipo 10 stage o più, da quello che ho visto, e dovremo coltivare, e dovremo produrre varie cose. Ma non è finita qui, perché adesso arriva il Big Fella. Questa è l'entrata al Core Level 1. È un posto molto oppressivo, con una guida buona come te, insomma, ce la facciamo. Ma la mia obbligazione, il mio obbligo, finisce il Core Level 1. Ok, capito. Vedete che queste classiche espressioni da manga, insomma. C'è un terremoto, ed è, lei ci dirà, è probabilmente, credo che il Big Fella abbia sentito quando abbiamo fatto quel casino con il vagone, quindi stia arrivando. Quindi saliamo velocemente, e ce ne andiamo, e facciamo conoscenza anche del Big Fella, che è questo tizio qui. Insomma, sarà quella la minaccia. Gli abbiamo buttato il piccone, abbiamo perso il nostro bel piccone elaborato, tuttavia, ripartendo da qui, avremo un piccone che è di livello più basso. Infatti, vedete quello era azzurrino, quasi a pensare a un piccone di diamante alla Minecraft. Adesso avremo un piccone grigio normale di pietra. Ok, la aiutiamo a salire, e lei adesso se ne va. Ti ho portato all'EarthCore, non c'è nient'altro, me ne vado per la mia strada. Mi stai già lasciando? Ah, ti mancherò? Perché ti mancherò? No, 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 davvero no. Ci manca solo la gocciolina. Ammiro la tua iniziativa. Solo questo. Non sei uno che vada aiuto, fino a quando ci incontreremo ancora, e va via. E quindi qui inizia la nostra avventura, diciamo, non più accompagnati dal tutorial, ma, insomma, andiamo a vedere un attimino in che cosa consiste. Devo aspettare fino a che Carlo decide che cosa fare. Ti troverò... Ok, e qua partiamo dal level 1. 20.000 metri sotto. Ok, dice che alcuni componenti mancano, e quindi non riusciamo a far partire questo edificio. Non so cosa sia onestamente questo. Non partirà. Sembra che manchino. Ok, quello l'abbiamo già visto. Se andiamo qui, possiamo vedere che col tasto E continua a dire la stessa roba. Quindi vedete che adesso ho questo piccone. Posso andare a scavare un po' di roba. Ma non finisce qui, perché adesso da qua siamo arrivati. Scavichiamo di qua. Apriamoci un percorso. E vediamo che c'è un tizio lì, che sia Carl. Vediamo. Intanto qua vediamo anche delle... Ok, vedete che ora possiamo parlare. Vi parlo. Avventurier Joe. Silenzio, stai tranquillo. C'è una quest. Chiedi per le prove. Potrei chiedere... Grande. Ti stavo aspettando molto... Stavo aspettando molto il team di salvataggio. Che arrivasse. Insomma, da molti anni non sto aspettando qualcosa. Muoviti ed evacuiamo. Non voglio stare in questo posto per un altro secondo. Aspetta. Ti stai sbagliando. Non sono del team di recupero. Ah, non sei uno del recupero. Ma da dove arrivi? Ho scavato direttamente da sotto, dalla profondità. E sto cercando di tornare allo superficie. Se ti sto ascoltando correttamente, hai detto che vuoi tornare alla superficie. È giusto. Devo trovare il mio fratello. Anna Rebol. Non so cosa sia. Dovrebbe essere stato qui tre anni fa. Lo hai visto? Aspetta. Hai sentito quel suono? No. Quei dannati ratti devono averci trovato. Veloce. Eliminali. Ok. Li eliminiamo subito. Siamo subito in a lei. Ok. È uno solo era. Posso entrare in casa tua, grazie. Qua c'è... Ah, carino. Crafting table. Bello. Cioè, questo gioco è veramente... Secondo me, i team cinesi su queste cose sono molto bravi. Hanno creato anche giochi come Dyson Sphere Program e altri. Sempre orientali. Quindi, io ho una certa ammirazione per i survival perché secondo me li sanno fare. Allora, intanto vediamo. Qua abbiamo il Mobile Surveyor. Rileva le miniere. O gli spot di mining. E le oscillazioni del corpo. Può essere fatto portatile, insomma, attraverso gli aggiornamenti. Quindi probabilmente all'inizio è fisso, aggiornandolo poi diventa mobile. Un martello pneumatico per scavare più velocemente. Un affiatorio per bagnare i fiori. Una equipment crafting station per craftare gli equipaggiamenti. Cooking table per cucinare. Furniture per fare i mobili. Foundation casting station, non so cosa sia. Ah, per fare cose un po' più elaborate. A livello di costruzione, credo. La fornace classica. E lo storage box. Questo è quello che possiamo fare con il tavolo. Qua si può dormire. Dopo la tua morte il personaggio rinascerà al letto. Perfetto. Adesso io voglio capire cosa posso fare. Perché intanto raccolgo. Nel menu rapido, seleziona i semi che vuoi piantare. Seleziona farmland, left, cricket, play seed. Ok. Praticamente ci sono quattro fasi per piantare. La semina, la crescita, il sapling e i maturi, insomma, con l'acqua. Ok, crafta una cantina vicino all'acqua per raccoglierla. Ok. Matur stage. Perfetto. Sembra molto, molto, molto profondo. Lì sotto ci sono altri mostri. Fai un po' vedere. Io ho preso questi che sono wet seed. Quindi io li posso piantare. Sì. Bene. Ma se volessi fare il resto, tipo volessi fare in affiatorio, Iron Plates. No, non posso fare niente. Vorrei fare una fornace. Una fornace mi serve limestone per 15 claystone. Sì, posso farla. Sì, l'ho craftata. Perfetto. Quindi la piazziamo qua. Devo ancora prendere dimestichezza con... Ok. E quindi ci posso mettere dentro Copper Plate, Iron Plate, ma purtroppo non ho del metallo solo o non ho dell'Iron. Comunque esplorichiamo un pochino qua in giro. Vediamo se trovo qualcosa di interessante. Cioè, ma pensa a te. Guardate che roba. Che spettacolo. Sì, si muore in acqua. Sì. Decisamente sì. È bellino il riflesso. Mi piace. È anche esagerato. Però è figo. Ah, questi qui fanno molto male. Cioè, più che altro rompono le pietre. Non c'è la rotolata, ma c'è lo swipe. Perfetto, craftano lo storage box per mettere all'interno gli oggetti che non ti servono. Adesso diamo un'occhiata anche a tutto il resto. Perché il gioco è molto... Ma non volevo cadere giù, zio. È questo. Ok. Qua dentro sembra esserci qualcosa da minare. Tipo del ferro. Si può usare anche con il contro? No. C'era, ma non ce l'ho più. Questa. Posso craftarla? Cosa mi chiede? Shatterwood. Sì, nel Craft 1. La voglio impiazzare qua. Perché io posso, con lo shift, vedete, tenere un po' molto a vedere. Posso anche piazzarla per terra. Voglio vedere se qua, sì, effettivamente si può scavare. Sì. Io però sto prendendo limestone. Questo è forse ferro, eh? Iron Core. Perfetto. Non se ne prendono neanche pochi, quindi... Il gioco non credo sia multiplayer, almeno al momento, quindi... Si presterebbe bene anche per il multiplayer, ma... Tasto M, apriamo la mappa, veniamo al vento del gioco e così via. Adesso io voglio andare a fare... Intanto voglio vedere se mi dà del metallo anche qua. Ci mette un bel po' a scavare. Poi niente anche perché il piccone non è il massimo della vita. Ma qua mi segna qualcosa. Quindi secondo me... La sopra c'è del copper ancora. Canned Food. Ok, ho trovato del cibo. Perché c'è anche il cibo. Abbiamo detto che abbiamo impostato la fame a medio. Quindi sarà veramente difficile sopravvivere senza mangiare. La fame. Questa è la forza. Buon vediamo. Però vedete che anche qui brilla. Quindi secondo me qua c'è del cibo. Iron Flour. Qua si può scavare? No, la casa fortunatamente non si può scavare. Ho bisogno d'acqua. Ho bisogno di tanta acqua. Quindi io qua ho una cassa. Ok, gli parlo. Aspetta anche qui. No, cosa ho risposto? Non so cosa gli ho risposto. Mannaggia me. Ok, go, oggi, ok. Devo andare là sotto. Ma vabbè, ma a me non me ne frega niente. Voglio vedere la produzione adesso del ferro. Ok, gli ho butto dentro il ferro. Questo è Iron Ore e questo è Limestone. Mettiamo questo. Mettiamo dell'altro legname. E produciamo un po' di... Voglio vedere se posso fare altre cose. Diamo un'occhiata a questo. Il backpack è questo. I talenti. I talenti che andiamo a modificare con la modifica genetica che potremmo fare andando avanti. Si parla di spade, di chance di essere invincibili, extra coin e altre cose. Tech, non ho ancora sbloccato il tavolo di ricerca. Abbiamo le quest. Abbiamo la mappa. Abbiamo i partner che non abbiamo ancora sbloccato. E i tutorial. Mi sembra molto profondo come gioco. Assolutamente. Tra l'altro io posso fare anche l'infiatoio ma non ho l'acqua. Anche se il fiume sotto potrebbe essere. Quindi vediamo se riesco a craftarlo. Questo. Ne faccio uno. Perfect. Lo piazzo qui. E dovrei poter andare a bagnare i miei fiorellini. Perché non riesco a muovermi fuori di là? Non capisco. Adesso io prendo l'infiatoio. Vediamo se posso riempirlo. Ok, sì. Vedete che si è riempito. Fantastico. E vado a bagnare i fiori. Vado a bagnare il... Adesso non so, fiume, non hanno più quell'icona lì. Posso fare altro interessante? Il drill no. Questo copper plate, iron plate, 5,5. Posso fare il grafting iron plates per 5? Sì, dai, facciamo quello. Mi potrei perdere via per delle ore. No, voglio fare del copper plate adesso però. Fermati. Fammi il copper. Butto dentro il copper. Perché non me lo fa? Perché devo selezionare questo? Stop. Questo. Perfetto. Vai. Ok. E... Questo. Lo facciamo. E lo mettiamo qua. Magari in casa. Posso metterlo, sì. È bellino questo. Piccone. Iron fist. I pugni d'acciaio. Le varie cose. Copper mining. Copper ore per 5. Paulonia. Ce l'abbiamo. Non so cosa sia ma... Mi fido. Mi fido. Mi dice che ce l'ho. Questo forse no. Cabbage. Cavoli. Blue mushroom. Warmsegg. Roamite. Roamite. Spirit core. Iron floor schema. Ah, è uno schematic questo. Voglio vedere se riesco ad apprenderlo. Moss. Bonasces. Paulonia. Ah, questo qua. Il legno, il legno, il legno. Allora, cos'è che mi serviva per fare questo? Per farmi la luce. Copper ore. E tanto vado a prenderli qua fuori. E... Dovei far... No, no, continua pure. Anzi, no, fammi riprendere la legna. Vabbè, shuttered. Va bene, dai, tanto... Allora, fammi fare... Quello. Questo qui. Insufficient material. Copper ore per 5. Ah, no. Copper ore. Non copper plate. Fermati subito. Vado a riprendere. Eh, dovrebbero essere... Infatti. Ok, fatto. Adesso io credo di doverlo equipaggiare così. Ok. E... Perché mi diceva qua in alto... No. Ho la luce. Ecco, non bisogna ancora di acqua. Che palle. Allora, questo l'abbiamo pareso. Ne abbiamo un bel po'. Eh, continuiamo con il ferro a sto punto. No, il ferro l'abbiamo finito, mi so. Beh, intanto... Sì, fa un po' di luce comunque. Credo. Sì, perché ce lo dovrei avere appeso lì. Voglio vedere se questo coso qui, che vedete che ho appeso, sparisce se me lo tolgo. Vediamo un po'. Sì, no. No, rimane, ma fa meno luce. No, no, fa luce, fa luce. Sì, decisamente sì. E quindi, niente. Voglio vedere adesso questo progetto. Io lo prendo, Iron Floor, e aggiunto agli item craftabili. Quindi io dovrei avere qualcosa di nuovo da craftare, ma probabilmente all'interno dei tavoli. Quindi, se io vado in tech... No, non ho ancora quello. Va bene, dai. Adesso. Mi diceva di craftare questo. Iron Plates. Lo faccio. E lo piazzo immediatamente qui. Piazzo qui. Poi potremmo fare la nostra catena di produzione. Insomma, qua possiamo mettere dentro le cose, quindi... E questo cos'è? Sarà qualcosa per l'automazione. Quindi, secondo me, Cabbage Seed. Andiamo a piazzare anche i semi di cavolo. Che è molto importante anche il cavolo. Uno, due, e bagniamo. Sì, sparisce proprio la... Bene. Tecnicamente, noi adesso dobbiamo andare sotto. Dove ci ha detto di andare? Adesso possiamo saltare di qua. Dobbiamo riprendere il piccone. Il piccone ha la durability, quindi si consumerà anche lui. Stiamo andando là sotto. Qua dove eravamo prima. Ah, anche la lattina. Famelo mangiare. Ok. È danneggiato. Sì, si è rotto. Se lo colpissi a mani nude. Ce la faccio. Sì. Vediamo se posso craftarmi al volo un piccone. Sì. Insufficient materials. Limestone. È perché li ho depositati. Niente, devo tornare indietro. A meno che non ho limestone. Anche se credo che il limestone non sia così difficile da ottenere. Probabilmente è già questo. Infatti. Perché deve essere un materiale che noi possiamo ottenere facilmente per craftarci nuovamente il piccone. Vediamo se lo posso già fare. No, 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 no. Che non ho voglia. Mi pesa. Andando indietro. Per fare un piccone. Limestone per uno. Non ancora. Uno ancora. Allora, dai. Sì, che poi in realtà ho anche quelle piattaforme lì. E me le potrei usare... E vediamo. Ma quante cavolo ne ho? Eh no, una ancora me ne manca. Ma scusate, io faccio così e risolvo il problema. Uno, due, tre. Eh, facile no? Giro di qua. Sto facendo un sacco di legno. Perché questa qua è l'altra casa di Joe. Ok. Tornata giù. Vabbè, va bene. Intanto però io voglio andare a esplorare la casa. Fammi vedere cosa c'è nella cassa. Qua dentro non c'è niente. È una fornace questa. Come quella di prima. Questo è... Non so cosa sia. Cos'è questo? Faccio più. Metto questo. Giorno 3. Questo. Wooden wardrobe. Dove si mettono i vestiti. E qua delle botti. E qua Q cos'è? Remove item. Ah, posso eliminare le cose. Square iron table. Ah, posso rimuovere usando questo. Ok, no. Vabbè. Toglilo che... E tornare indietro. Da Joe e completiamola questa. E il gioco sembra essere molto, 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 molto interessante. Adesso io non so perché mi... Ah, ma sto girando con sto affare qui sulla testa. No, no, no. Vabbè. Planting guide. No, no. Non voglio... Eh, fammi mettere metterlo lì. Allora. Niente, non... Vabbè. Sono... Mi si è imballato un secondo perché stavo... Avevo il tavolo in mano e non me ne ho manco accorto. Allora, fammi rimuovere questo. Ok. Eh, scusami, eh. Fammi rimettere adesso questo qui, così almeno passo di là. Allora, Joe, cos'è che vuoi? Ok, no. Fammi fare una cosa. Volevo vedere questo. Questo qua ha la possibilità di vendere. Cioè, con le monete che abbiamo recuperato possiamo comprare il piccone. Trovo in pic, da lanciare un piccone da lanciare. Vabbè, si può vendere, è anche roba. Mi da 15. Vendo questi. 440, tantissimo. 70. Il lime, niente. Perché è quello più comune in natura. Questo 50. E il rat meat, 20. Riferisco a tenermeli. Va bene. Ragazzi, questo è il gioco. Davvero molto, molto, molto interessante. E fatemi sapere che cosa ne pensate. Spero sia stata per voi, come l'è stata per me, un'autentica sorpresa, questo Returned From Core. Fatemi sapere e alla prossima. Ciao, ciao. Fatemi sapere e alla prossima. Fatemi sapere e alla prossima.